eccoci nuovamente con caia ora ci andiamo ad immergere nei fondali di santa maria di castellabate la cartolina sono gli amici del mare compassione e dedizione promuovono e diffondono un importante mission far vivere il fondale marino dell'area marina protetta di santa maria di castellabate attraverso un viaggio immersivo in sicurezza l'associazione cilento sub new presieduta la natale dei santis con gli esperti subacquei effettuano immersioni durante le quali è possibile visitare i fondali più belli del cilento organizza corsi dedicati a bambini e adulti per far conoscere vivere il paradiso subacqueo tra l'isola di licosa e punta trezino indossata la muta e le bombole sulle spalle si è pronti ad un vero e proprio battesimo del mare durante il quale si può entrare a contatto con la ricchezza e la vita che il mondo marino nasconde nei suoi fondali da pesci di varie forme dimensioni che nuotano tranquilli nel loro ambiente naturale ai polipi che si nascondono negli anfratti delle rocce alle stelle marine che giacciono pacifiche in mezzo alla flora del mare uno spettacolo surreale un mondo con i suoi ritmi e le sue abitudini i suoi colori e le sue forme che costellano di nuovi e piacevoli incontri il tutto in compagnia di strutturi esperti per divertirsi in tutta sicurezza e caia dail benvenuto a natale desantis presidente della sd cilento sub buongiorno natale benvenuto buongiorno a te grazie per essere collegato con noi perché attraverso le tue parole il tuo racconto andremo a far conoscere ai nostri telespettatori questi fondali meravigliosi dove ognuno di noi con voi a fianco possiamo conoscere dal vivo è vero natale sicuramente farò da guida allora natale perché questa passione per i fondali perché sei diventato un sub una guida subacquea anche allora tutto questo nasce la passione nato un poco vicino al mare quindi a 4 5 metri dal mare quindi la passione comincia a nascere così nasce diciamo con l'approccio del mare e poi attratto proprio dal mare la passione diventa sempre più forte e insieme diciamo un gruppo di amici a proprio amanti del mare di questo l'abbiamo divulgata a 360 gradi per far conoscere il mare nel tutte le sue forme in tutte le sue aspettative e coinvolgere un poco tutti e questa divulgazione nostra e la trasmissione un poco a tutti i ragazzi meno ragazzi per far conoscere il mare tutto le bellezze che ci possono essere il punto al mare dando uno spazio a tutti anche perché questo mondo blu diciamo questo mondo subacqueo non è per tutti però noi cerchiamo di indirizzarci un poco tutti e soprattutto i bambini che hanno una forte passione per il mare e una forte curiosità che saranno le nostre è vero natale perché voi vi dedicate a tutti no anche a coloro che non hanno fatto mai un'immersione voi fate proprio dei corsi no per dare le nozioni preparare le persone anche giovanissi ad immergersi no e quindi vivere questo paradiso dei fondali che dove c'è un mondo meraviglioso ovviamente sempre da rispettare da tutelare sì certamente noi facciamo diverse attività tra cui l'unico che l'approccio più rapido e veloce è il battesimo del mare un battesimo in realtà dove diamo le nozioni basilari e con una guida o un istruttore nostro accompagna la persona in acqua facendogli vedere queste meravigliose cose che abbiamo sott'acqua tra stelle marine pesci e altro e diciamo è l'inganto per un giorno per queste persone che non hanno mai fatto questo poi chi ha la passione di continuare allora noi facciamo dei veri e propri corsi subacquei rilasciando brevetti e quindi la loro passione diventa una anima con noi per immergersi nei nostri condali che sono bellissimi in altri condali quindi si può fare un po di tutto natale preparando la cartolina sono rimasta davvero affascinata dalla processione subacquea no di a santa maria di castellabate la madonna degli abissi voi scendete a 18 metri di profondità circa proprio per omaggiare la madonna è un appuntamento annuale al quale voi tutti siete molto legati sì questo diciamo è un vendegno che facciamo questa cosa omaggiando la madonna degli abissi portando tutto lo staff porta un mazzo di fiori alla madonna come protettrice dei subacquei e quel giorno che il 15 di agosto possono partecipare anche tutti gli esterni che vogliono venire a domaggiare la madonna possono essere con noi quindi è una vera e propria cerimonia che facciamo tutti gli anni il giorno 15 agosto e come festa dell'assunto e la festa della madonna degli abissi stiamo vedendo proprio in queste immagini la madonna degli abissi è un sentimento molto forte per tutti quanti voi ma anche per i tanti turisti no che in quel periodo si trovano proprio nelle vostre zone possono anche loro partecipare a questa processione sì certamente possono partecipare tutti sia tutti sia quelli che sia sub e sia non sub perché quelli che si immergono possono scendere gli altri stanno in barca vedendo tutto diciamo la prassi che svolgiamo nell'andare a depurre la madonna e poi divulghiamo le immagini che come tu vedi per quelli che non ci sono potuti essere in quel momento no guarda quando le ho viste davvero sono rimasta mi hanno emozionato perché poi scendere così in profondità 18 metri e chinarsi dinanzi a questa statua no della madonna degli abissi è davvero particolare soprattutto per i credenti possiamo dirlo e natale ecco in altre immagini ti abbiamo visto chiacchierare e con un po con polipo cioè ai propri rapporti di buon vicinato sì certamente purtroppo che purtroppo i pesci sono poco come noi in realtà sono timidi permalosi però quando ti avvicini con diciamo in modo regolare in modo grazioso anche loro ci danno le loro carezze e quindi si lasciano avvicinare si lasciano carezzare quindi si stimola un fatto sia con i pesci sia con l'ambiente marino in un modo amorevole e quello che cerchiamo di fare e di trasmettere anche ai giovani di rispettare l'ambiente subacqueo e quindi di divulgare a tutti loro di avere tanto rispetto anche perché noi facciamo iniziative a 360 gradi con mare vivo collaboriamo con il parco nazionale del cilento col comune di castellabate per proteggere diciamo quest'aria marina protetta sia dalle plastiche sia dalle microplastiche e da tutto ciò che concerne all'inquinamento e quindi questa è la cosa che vogliamo trasmettere ai giovani che loro un futuro potranno trovare questo mare meraviglioso come l'abbiamo trovato noi certo il rispetto dell'ambiente fondamentale e voi fate benissimo perché attraverso le tante iniziative di rete no create anche rete tra enti comuni associazioni proprio divulgate il senso di responsabilità che bisogna avere anche del mare di tutto l'ambiente circostante ma anche del mare soprattutto sì soprattutto divulghiamo anche nelle scuole quindi operiamo con le scuole divulgando proprio questo tipo di approccio sia con il mare ma sia con tutto l'ambiente di avere rispetto di non buttare soprattutto queste plastiche in guidanti come buste di plastiche che alcuni pesci tipo le tartarughe marine che noi abbiamo qua fortunatamente diciamo nidi di caretta caretta che sono qua però queste plastiche che vanno a finire in mare per loro sono un handicap perché loro le scambiano come se fossero delle meduse e rimangono quindi rimangono in gola e soffogano quindi tutte queste piccole cose se noi facciamo dei piccoli accorgimenti e dando un input forte a tutte le persone dai bambini agli adulti di non buttare in mare tutto quello che usano quando vanno a mare quindi di riportarlo e di metterlo in una busta e portarlo indietro tutto questo sarà un domani migliore per tutti e trovando la flora e la fauna marina come una volta natale mi racconti qualche aneddoto di qualche immersione che hai avuto e ancora oggi ricordi con un con il sorriso sulle labbra qualche non so incontro ravvicinato con qualche pesciolino con qualche caso di aneddoti ce ne sono un poco tanti cioè ti racconto un po un aneddoto che mi è rimasto un poco perché perplesso perché non mi aspettavo di trovare cioè mentre facevamo c'erano immersione io con un amico sentivamo dei rumori sott'acqua tipo come delle botte come delle percussioni ma dico ma che c'è gli dico guardiamoci intorno vediamo che c'è e nel girarci e nel fare abbiamo trovato una una bella tartaruga una carretta che stava beccando sopra uno scoglio e quindi beccava sopra uno scoglio al che lei si è fermata e ci ha guardato come dice ma voi che fate qua questo è il territorio mio e così facendo l'amico dire si avvicina che la voleva carezzare questo la guarda si gira intorno e viene verso di me venendo verso di me mi passa proprio con il guscio sotto per dire attaccati e io l'ha parlato in quel momento non pensando ci mi sono attaccato questa mi fa fare un giro e poi mi vuole portare in superficie come per dire tu qua sotto non stai bene devi uscire fuori ti stava cacciando bella questa ti stava cacciando sì sì è stato un anetodo bellissimo e ci credo e natale possiamo dire che queste esperienze le possiamo vivere anche per chi come me non è una grande nuotatrice neanche tanto certamente allora il primo è l'approccio con il mare l'approccio con il mare è un qualcosa di bellissimo è vero sì che si hanno tante paure perché l'acqua diciamo include un poco paura però diciamocela tutta noi siamo nati nell'acqua per nove mesi ci abbiamo vissuti poi dopo una volta usciti da quest'acqua poi dopo ci prendono le paure però se noi vinciamo queste paure noi riusciamo a fare tanto anche perché il mare terapeutico un poco come tutte le terapie che fanno un poco gli altri posti è vero che è un poco più pericoloso però questo senso di pericolosità da un input forte al cervello di lavorare meglio e quindi quando tu riesci a entrare nel mare diventi un'altra persona diventi molto più ponderata e quindi vivendolo in questo spazio uno che riesce a stare sott'acqua e a rilassarsi è un'esperienza favolosa da che almeno uno nella vita la deve provare dai natale ci penso mi armo di coraggio e poi ci vediamo a santa maria di castellabate tanto ci siete voi a fianco a me vero sì sicuramente così la prossima così la prossima volta il video sarà tutto tuo ah sì con una bella gopro nei fondali marina bella mi piace come idea perché no natale io ti ringrazio ringrazio la s tutta l'associazione del cilento sub attraverso te abbiamo conosciuto questo paradiso dei fondali marini del di santa maria di castellabate del cilento spero di incontrarti presto e di chissà parlare anche in un'altra occasione a caia sempre di questa bellezza naturalistica delle tante attività che fate sia stata anche l'artifice della divulgazione di tutto questo quindi faccio anche colgo l'occasione di questo momento per fare gli auguri un poco natalizi per tutti quanti e come diciamo noi dato che si avvicina anche l'anno nuovo dato che noi subague bolleggiamo quindi tante bolle a tutti sia marine che sia frizzanti grazie ancora e auguri natale alla prossima grazie a te grazie grazie e dopo questo viaggio nei fondali santa maria di castellabate ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria a tra pochissimo per l'ultima parte di caia grazie a te grazie a te grazie a tutti